Focus. La prima commissione ha svolto una seduta per analizzare nel dettaglio le ricadute regionali del decreto nazionale sulla spending review. L'intervento dell'assessore al bilancio Giovanna Quaglia si è concentrato particolarmente sull'istituzione delle aree metropolitane, sulla riduzione del numero delle province, sulla vendita delle società pubbliche e le misure in materia di spesa del personale pubblico. Oggi in commissione si discuterà delle applicazioni regionali dell'IDL 95, più noto come spending review del governo Monti. L'assessore Quaglia ci racconterà quali possono essere le ricadute del provvedimento nazionale e i gruppi, credo, interessatamente vedranno anche quali applicazioni specifiche, al di là dell'applicazione nazionale, potrà esserci nell'interesse della regione. La discussione sulla spending review, una parola inglese che vuol dire rivedere la spesa e renderla più efficiente e al buono. Bisogna decidere, stiamo aspettando da parte della maggioranza le proposte. È chiaro che occorre eliminare gli sprechi, ogni spreco, ma questo non vuol dire tagli lineari, cioè uguali per tutti, virtuosi e non virtuosi. E soprattutto bisogna evitare di tagliare i servizi essenziali per i cittadini. Questa è la sfida che abbiamo di fronte e il PD farà la sua parte.